Siamo con Filippo Mazzò a rientro in campionato dopo il lungo infortunio. Filippo, che sensazioni hai avuto di questo tuo primo incontro? Ho avuto una grandissima emozione perché fare la prima partita e fare una tripletta è stata un'emozione incredibile. Anche perché dopo il mio infortunio venire a vedere le partite dei miei compagni e vederli vincere senza dare il mio contributo volevo praticamente essere anch'io in campo lì con loro. Una tripletta importante che ha dato il via a questa grande vittoria? Sì, diciamo che non me l'aspettavo. Il primo gol si è creato con una carambola difensiva. Però per il resto sono felice di aver dato il mio contributo alla squadra e per i ragazzi, per il mister e per il presidente di continuare questa tricia positiva di vittoria. Grazie a tutti.